Buongiorno a tutti e ben ritornati o benvenuti nel canale, finalmente riesco a registrare, sono passate due settimane dall'ultimo video però eccomi qua e mi vedete struccata perché oggi voglio truccarmi insieme a voi e questo video è in collaborazione con un'altra ragazza che ha un canale youtube dove parla sempre di make up, il canale si chiama Valeri Makeup, ve lo lascio scritto qua inoltre vi lascio nell'info box linkato il suo canale e il suo video che avrà lo stesso tema di questo video ovvero facciamo un make up completo partendo dalla base fino ad arrivare alle labbra, agli occhi eccetera eccetera utilizzando i nostri trucchi preferiti di sempre, quindi io per ogni categoria di trucchi ho scelto quello a cui non potrei mai rinunciare e che se mi dovesse sparire tutta la mia make up collection ricomprerei, quindi ho fatto una selezione il più stretta possibile e appunto per ogni categoria ho scelto un solo prodotto che secondo i miei gusti è il migliore spero di essermi spiegata, scusate ma essendo un pochino che non registro devo riabituarmi e al secondo video che faccio in collaborazione con un'altra ragazza sono molto contenta mi raccomando andate a vedere anche il suo video in modo che potete vedere anche la sua proposta make up e quindi anche i suoi trucchi preferiti comunque iniziamo e tutti i trucchi li ho qui dentro, dentro questa pochetta che ho comprato ultimamente da Ticotan molto carina, infatti ancora c'è il cartellino, è costata 12,90€ e mi piace tantissimo sia il colore, sia il tessuto, sia la grandezza e anche questa scritta comunque a parte la pochette, qui ho messo tutti i miei trucchi preferiti di sempre già solo questa pochette potrebbe passarmi per tutta la vita per truccarmi partendo dal fondotinta, in realtà qui ero molto indecisa io ovviamente ho provato tantissimi fondotinta e sono giunta alla conclusione che i miei due preferiti sono questi qui se devo sceglierne uno, per il finish e l'effetto sulla pelle sceglierei assolutamente questo che è della L'Oreal, l'Infaible 24 Ore Fresh Wear e ha in realtà anche una buonissima coprenza però se come in questo periodo ho diverse imperfezioni il mio preferito è questo qui di Fenty Beauty il primo uscito che si chiama Profilter Soft Matte Foundation nella colorazione 210 perché anche questo qui mi piace tantissimo infatti ha un'altissima coprenza ma vi assicuro che non vi dà l'effetto mascherone l'unica cosa se avete una pelle secca non ve lo consiglio mentre se avete una pelle mista o grassa secondo me è perfetto invece questo qui della L'Oreal secondo me va bene più o meno per tutti i tipi di pelle se avete una pelle estremamente grassa dovete fissarlo bene però in realtà tra i due il mio preferito è questo qui della L'Oreal vi lascio un video linkato qui dove ve lo faccio vedere applicato e vi faccio vedere l'effetto la pelle risulta fresca, luminosa, radiosa ma la coprenza è buonissima nonostante questo effetto molto naturale e appunto fresco ha una buonissima durata quindi in realtà forse tra i due preferirei questo l'unica cosa è che ho la colorazione 135 che in questo periodo dell'anno è troppo scura quindi vi faccio vedere questo di Fenty Beauty che comunque è il mio secondo preferito diciamo ho messo il fondotinta sul dorso della mano e lo vado a picchiettare su tutto il viso e infatti questo è anche il fondotinta che negli ultimi video vi ho fatto vedere sempre e vi posso assicurare che certo non è il fondotinta più leggero del mondo ma si è steso bene e se non è applicato un quintale comunque risulta anche abbastanza naturale ovviamente se lo stendete con un pennello la coprenza aumenta ma io vi consiglio la stesura con una spugnetta in un'unità perché l'effetto risulta più leggero nel senso che ovviamente con la spugnetta il prodotto si fonde meglio con la pelle e io prima di truccarmi avevo applicato una crema idratante il finish di questo fondotinta è abbastanza matt non super matt ma comunque neanche luminoso si ossida leggermente però avete una vastissima gamma di colorazioni sapete che la linea di make up di Rihanna è famosa anche proprio perché ha introdotto tantissime colorazioni sia per il fondotinta sia per i correttori quindi anche se il fondotinta il prodotto ossida un pochino basta che prendete una colorazione in meno ecco l'effetto del fondotinta non fa troppo spessore è matt quindi non si lucida e ha coperto quasi al 100% le imperfezioni io comunque non ho applicato troppo prodotto quindi se volete dove avete bisogno potete tranquillamente stratificare per raggiungere una coprenza ancora più alta e quindi direi full coverage mentre riguardo al correttore ne ho diversi che mi piacciono molto alcuni anche più economici però se ne dovessi scegliere uno sceglierei questo della Too Faced il famosissimo Bonandis Way che non è il più economico ma come vedete contiene tantissimo prodotto ha quasi la grandezza di un fondotinta è super coprente riesce a coprire qualsiasi cosa però è modulabile quindi potete applicarne anche molto poco se volete un effetto più leggero ma vi assicuro che nonostante l'altissima coprenza non è secco non va a segnare troppo le linee di espressione e risulta abbastanza idratante che è una cosa da non sottovalutare perché di solito i correttori così tanto coprenti spesso sono troppo secchi e quindi vi vanno a segnare a dare quasi l'effetto invecchiato alla pelle infatti questo correttore spesso lo utilizzo anche da solo diciamo come fondotinta lo applico nelle zone dove ho bisogno nelle occhiaie e nelle imperfezioni sul viso magari lo stendo con un pennello per avere una coprenza totale mentre nel contorno occhi lo stendo con la spugnetta per avere l'effetto più naturale e vi assicuro che in quel modo la pelle risulta super uniformata senza applicare il fondotinta credo che in realtà questa cosa ve l'ho fatto vedere in un video ve lo lascio sempre linkato se lo ritrovo vedete quanto copre e quanto pialla questa zona da quasi l'effetto levigato alla pelle ne applico un pochino anche al centro della fronte e sul ponte del naso per creare queste zone luminose passando alla cipria ero indecisa anche in questo caso tra due ciprie ovvero questa qui di Nabla che alla fine è quella che ho scelto cioè la close up nella colorazione light super famosa la loro cipria compatta però mi piace tanto anche quella della linea naturale di Pupa la natural side che nonostante è una cipria naturale al 100% mi piace molto perché io cerco ciprie che comunque siano leggere come è anche questa leggere però che vanno a levare l'eventuale eccesso di lucidità e fissano il trucco abbastanza a lungo non mi piacciono invece le ciprie troppo spesse che danno l'effetto cake ovvero che danno l'effetto troppo polveroso e non vogliono anche una pelle troppo opaca infatti questa cipria è vero che fissa e fa durare più a lungo il trucco però come vedete non è estremamente opaca e quindi questa cosa mi piace perché secondo me se la pelle ha un effetto più luminoso risulta più in salute e più fresca inoltre è una cipria che mi trovo bene anche ad applicarla sotto l'occhio in questa zona perché dà un effetto levigante alla pelle e appunto ha una polvere molto molto fina quindi non vi dà l'effetto cake neanche in questa zona dove ci sono le pieghe passiamo invece ora alla terra per dare un pochino di dimensione al viso che ora è completamente appiattito avendo applicato fondotinta, correttore e cipria e assolutamente la mia terra preferita è questa di Benefit la famosissima Hula che è di una tonalità né troppo fredda né troppo calda quindi io mi ci trovo bene sia per fare il contouring sia per riscaldare l'incarnato ora ne ho applicata un pochino troppa però vado a sfumare è una terra molto amata perché ha una buona pigmentazione la colorazione come vi dicevo è molto bella e versatile per le pelli super chiare esiste anche la Hula Light quindi ancora più chiara è una polvere che si sfuma molto bene e dura a lungo io la sto applicando in modo abbastanza veloce e non troppo preciso sotto lo zigomo per appunto ridare un pochino di dimensione al viso e per alzare otticamente lo zigomo ne metto pochissima anche qui ai lati della fronte e con un pennello più piccolino ne vado un pochino a mettere ai lati del naso per fare un pochino di contouring anche al naso però in modo molto leggero vado a pulire il ponte del naso che invece deve essere chiaro passiamo al blush allora riguardo al blush ce ne sono diversi che mi piacciono molto però uno dei miei blush preferiti e forse appunto il preferito è questo blush della Rimmel che l'ho scoperto proprio ultimamente il maxi blush nella colorazione 004 perché è economico ma ha una buona pigmentazione il colore è stupendo un rosa pescato che secondo me è uno dei colori più belli per il blush e ha una buona durata e è secondo me un colore che si adatta a qualsiasi make up e è molto modulabile in base a quanto ne applicate e essendo comunque con un sottotono abbastanza caldo dà un effetto al viso secondo me molto molto bello in più come vedete abbiamo anche molto prodotto è una cialda abbastanza grande ne metto un pochino anche sul ponte del naso e oggi non ne ho applicato troppo passando invece agli ombretti se dovessi ricomprare una sola palette tra tutte quelle che ho o comprerei questa di Nabla la Dreamy Shadow Palette la prima uscita oppure questa di Too Faced la Born to Run ha una gamma di colorazioni molto più ampia quindi con questa potete fare sia trucchi più leggeri sia più intensi sia più colorati più caldi più freddi avete tutto però forse per gusto personale penso che la mia preferita è proprio questa di Nabla perché le colorazioni per il mio gusto sono bellissime e sinceramente i colori luminosi e metallizzati hanno una qualità secondo me più alta non fate caso che questa giardina sia staccata però vabbè perché mi è caduta un po' di tempo fa la paletta quindi tra le due scelgo questa qua di Nabla vado a prendere Illusion che è questo colore qua ovvero un marroncino caldo bellissimo da mettere nella piega palpebrale lo vado appunto a mettere nella piega dell'occhio per dare profondità e per creare il colore di transizione è uno dei miei marroncini preferiti per metterlo appunto in questa zona in realtà anche nella Born to Run questo marrone è un altro dei miei preferiti da mettere nella piega palpebrale che si chiama Riff eccolo qua vedete questo addirittura è ancora più caldo di Illusion e gli ombretti di Nabla hanno una buonissima pigmentazione sono super sfumabili la polvere è molto fina hanno una buonissima durata e appunto gli ombretti luminosi o metallizzati sono veramente bellissimi ora io sto sfumando molto bene per non dare un effetto troppo pesante anche perché è giorno e oggi non mi va di fare un trucco troppo particolare anche perché ovviamente non ho tempo vi faccio vedere un colore luminoso e applico Vanitas che è uno dei miei colori preferiti di questa palette un rosato chiaro con dei riflessi comunque caldi lo applico con il polpastrello perché io tutti gli ombretti luminosi li applico con il polpastrello e lo metto al centro dell'occhio vi ho fatto anche lo zoom in modo che potete vedere meglio guardate quanto è pigmentato e quanta luminosità dà all'occhio è un colore secondo me bellissimo e più ne applicate più aumenta la luminosità per ora non applico altri ombretti dopo sicuramente ne andrò ad applicare un altro ma intanto passo alla matita e al mascara e riguardo alla matita e al mascara non ho avuto assolutamente nessun dubbio nel scegliere infatti se mi seguite da un po' sicuramente saprete che la mia matita preferita è questa di Essence che costa veramente veramente poco un euro e qualcosa si chiama long lasting eye pencil è automatica è una matita molto nera né troppo morbida né troppo dura e con una buonissima durata e che non scola troppo anzi e io solitamente la applico nella rima interna superiore e in fraccigliare solo nella parte finale della rima in modo da dare intensità e lunghezza all'occhio ovviamente oggi non l'ho applicata assolutamente bene anzi mi ha fatto un po' un disastro perché quando sono di fretta ovviamente faccio casino e sicuramente immaginerete che il mio mascara preferito è questo della Pupa il Bump Explosive Lashes perché a me piacciono i mascara abbastanza intensi che danno sia lunghezza ma anche abbastanza volume e in base a quanto ne applicate ovviamente aumenta l'intensità potete anche raggiungere l'effetto quasi da ciglia finte infatti quando lo applico molte persone mi fanno i complimenti ovviamente se invece volete un effetto molto leggero pettinato e delicato secondo me non è il mascara adatto dipende un po' dai gusti ha un effetto o amato o odiato e io lo amo secondo me comunque il mascara è lo step fondamentale per dare veramente effetto al make up fortuna che ne ho un altro nuovo perché mi è finito e mi piace anche perché ha una formulazione abbastanza cremosa liquida e quindi non troppo secca se dovessi scegliere un altro mascara e questo non esistesse il mio mascara preferito sarebbe quello della Nabla e prima di questo invece il mio preferito era quello sempre della pupa però l'extreme che è molto simile però da un effetto un pochino meno volumizzante quindi appiccica un pochino di meno le ciglia e da un effetto più allungante quindi magari se volete un make up più delicato oppure per il giorno forse è più indicato come mascara guardate che bellissimo effetto e la differenza tra il prima e il dopo passiamo ora all'illuminante anche in questo caso ne ho diversi che mi piacciono veramente tanto però uno dei miei preferiti è sicuramente diventato questo della MAC Beaming Blush Extra Dimension Skin Finish e è diventato il mio preferito soprattutto per la colorazione penso che potete vedere da soli che ha un sottotono rosato ma in base a come viene colpito dalla luce spuntano dei riflessi più dorati e caldi è veramente particolare dal vivo e ancora più particolare da quello che si vede nel video è una polvere molto fina quindi non vi fa spessore non vi evidenzia la grana della pelle e è modulabile potete scegliere se ottenere un effetto più leggero o più intenso quindi secondo me è adattabile per qualsiasi situazione ci sono anche illuminanti che da subito sono più potenti però questo almeno ripeto secondo me è adattabile per diversi gusti e diverse situazioni in più è la colorazione più bella che ho appunto nella mia collezione di illuminanti vedete quanto risulta fino sulla pelle sembra quasi un effetto bagnato in realtà anche quelli nuovi di Nabla di skin glazing sono stupendi vi lascio sempre un video linkato dove ve li faccio vedere poi arrivavo a prendere la palette di Nabla per prendere Immaculate che è questo bianco luminoso e purtroppo non ritrovo il pennello che utilizzo sempre ne vado a prendere un altro e Immaculate io lo metto sempre nell'angolo interno dell'occhio perché dà una luminosità assurda e vi crea un punto luce spettacolare come vedete e lo metto anche qui sotto all'arcata sopracciliare è il mio colore preferito per creare il punto luce all'interno dell'occhio perché è un colore che si adatta a tutti i look per quanto riguarda la colorazione e è un punto luce che comunque si vede fa la differenza perché quando creo i punti luce troppo chiari nell'angolo interno dell'occhio quasi che non fa così tanta differenza invece questo si vede passiamo infine al rossetto e ho scelto questo matitone che sembra una nuova scoperta di Maybelline il Super Stay Ink Crayon nella colorazione 20 ho scelto questo perché intanto la qualità mi piace tantissimo è un matitone quindi è preciso ha una buona durata più lunga dei rossetti stick ma è meno secco ovviamente dei rossetti liquidi e è una colorazione bellissima né troppo chiara né troppo scura vedete quanto sono riuscita ad essere precisa e essendo appunto né troppo chiaro né troppo acceso è adattabile secondo me sia per il giorno sia per la sera quindi questo è tutto il make up completo fatemi sapere cosa ne pensate cosa pensate anche dei prodotti che ho utilizzato e quali sono i vostri preferiti vi ricordo di andare a vedere il canale e il video di Valeria spero che questa collaborazione vi sia piaciuta io come sempre vi ringrazio per aver visto il video grazie se avete lasciato un like e ci vediamo nel prossimo ciao